La nostra associazione, la Misericordia di Mazzara del Vallo, offre agli anziani della nostra città che non sono provvisti di assistenza domiciliare la consegna gratuita a domicilio della spesa alimentare. Ovviamente il servizio è gratuito, ma la spesa è a carico dell'utente che ci chiama. Per avere questo servizio è semplicissimo, bisogna scrivere la lista della spesa, contattare il numero 377-5438-333 e verrà mandato il nostro volontario, ovviamente in divisa. Il volontario prenderà la lista della spesa con i soldi necessari all'acquisto e riconsegnerà la spesa con eventuale resto. La consegna avverrà dalle 9 alle 18 come disposizione dell'ultimo decreto. Ci tengo a precisare che non sarà possibile soffrire del servizio per l'acquisto del singolo prodotto per evitare gli spostamenti anche dei nostri volontari. Tutti dobbiamo aderire, quindi tutti dobbiamo rispettare la regola, quindi dobbiamo limitare anche i nostri movimenti. Verrà effettuata una spesa che sia idonea per un paio di giorni. Grazie a tutti.